Ciao, sono Patrick Sheriff e oggi vediamo il riassunto del capitolo 36. Prima di continuare ti comunico che è uscita la mia guida sui Promessi Sposi, grazie alla quale hai a disposizione un'analisi chiara e completa di tutti i capitoli, personaggi e temi del romanzo. Potrai così affrontare facilmente verifiche e interrogazioni, oltre ad avere un valido supporto per la preparazione di compiti e relazioni sull'argomento. Trovi il link in descrizione e nel primo commento. Renzo si dirige verso la processione dei guaritti ed è in ansia per Lucia ed è anche preoccupato per la sorte di Don Rodrigo. Giunto nei pressi della cappella vede Padre Felice nel portico e Renzo subito inizia a passare in rassegna i volti delle persone, senza però trovare Lucia. A questo punto rivolge la sua attenzione all'ultima parte della predica di Padre Felice. Padre Felice si rivolge ai guaritti che sono radunati davanti a lui e dice che il cimiterio di San Gregorio è ormai divenuto un'immensa fossa comune, in quanto tantissime persone sono state uccise dalla peste. E inoltre ci sono ancora tantissimi malatti che sono ancora sdraiati nei loro letti, soffrendo a causa delle piaghe del morbo. Padre Felice Casatti dice ai presenti che loro fanno parte di quella piccolissima schiera di guaritti e per questo devono ringraziare Dio, in quanto Dio attraverso la sofferenza della peste li ha corretti, li ha messi sulla retta via e gli ha fatto capire che la vita è un dono prezioso. Dopodiché dice di uscire dal lazzaretto con contegno, senza dimostrare una gioia sfacciata, in quanto ci sono ancora tante persone che soffrono. E una volta fuori dal lazzaretto, loro, che sono guaritti, dovranno cominciare una nuova vita, nel segno della misericordia e della carità cristiana. Tutti ascoltano e osservano in silenzio Padre Felice Casatti, il quale a questo punto si inginocchia e si pone una fune attorno al collo, dopodiché chiede perdono ai presenti, qualora lui o i frati Capuccini non avessero svolto alla perfezione il loro dovere, a causa della noia, del fastidio o della stanchezza. Tutti i presenti sono commossi a sentire queste parole. Dopodiché Padre Felice Casatti si rialza in piedi e fa il segno della croce verso il suo auditorio e poi benedice tutti quanti. A questo punto Padre Felice Casatti erge sopra di sé una grande croce e a piedi scalzi scende in mezzo alla folla, guidando così l'inizio della processione. Renzo, che ha ascoltato tutta la predica, restando vicino ad una capanna, è commosso dal discorso di Padre Felice. E, quando il corteo passa davanti a lui, osserva con attenzione tutti i volti delle persone che gli passano davanti. Il corteo dei guaritti è aperto da Padre Felice Casatti, seguito dai ragazzi più grandi e dalle donne, alcune delle quali hanno per mano una bambina e recitano il miserere. Renzo guarda con attenzione i volti delle donne, ma non vede Lucia. Poi passano gli uomini e infine dietro di loro vi è un carro sopra il quale vi sono i malatti, ancora convalescenti, che non hanno la forza di camminare da soli. E infine a chiudere il corteo di un frate Capuccino, Padre Michele Pozzobonelli, l'aiutante di Padre Felice Casatti. Renzo nel corteo non ha visto Lucia e così pensa che Lucia debba necessariamente trovarsi nel quartiere delle donne. A questo punto, quando il corteo si allontana, Renzo si avvicina alla cappella e si inginocchia sul primo scalino e recita delle preghiere le cui parole sono confuse dalla speranza e dalla paura. Dopodiché, con la speranza nel cuore, si rialza e si dirige verso lo steccato che separa il quartiere femminile dal resto dell'Azzaretto. Lo steccato che separa il quartiere femminile risulta sconnesso in alcuni punti e proprio attraverso una di queste aperture Renzo penetra nel quartiere femminile. Qui, dopo pochi passi, trova per terra un campanello perso da un monatto. Così Renzo se lo lega al piede con l'intenzione di fingersi un monatto, pensando che in questa maniera gli sarebbe stato più facile girare indisturbato per il quartiere femminile. Renzo gira dappertutto alla ricerca di Lucia e vede in giro miserie simili a quelle già viste precedentemente nel Lazzaretto. Queste miserie sono simili a quelle viste in precedenza, ma anche diverse per il diverso modo di patire e di sopportare le sofferenze. Un commissario vede Renzo e lo scambia per un monatto, così gli dà degli ordini. Renzo risponde con un cenno e immediatamente pensa che il campanello potrebbe dargli più problemi che benefici. Così si infila tra due capanne, si inchina e comincia a slegarselo dal piede. Mentre svolge questa operazione, da una parete gli pare di udire la voce di Lucia. Immediatamente, toltosi il campanello, Renzo si fionda all'uscio della capanna e al suo interno trova proprio Lucia. Lucia è inchinata su un letto assistendo una malatta e quando si volta vede Renzo e Lucia resta attonita e ha un'esclamazione di stupore. Renzo è tremante e felice per aver trovato Lucia e dopo essersi salutati, immediatamente Renzo gli dice di aver contratto la peste e di esserne guarito. E poi gli dice anche che Agnese è viva, ma Lucia chiede immediatamente a Renzo per quale motivo sia venuto a cercarla, visto che sa della storia del voto. E a questa domanda Renzo risponde che il voto non è valido, perché la Madonna non permette di fare promesse che arreccano danno ad altre persone. Poi dice che basterà dare alla loro prima figlia il nome di Maria come segno di devozione alla Madonna. E infine aggiunge che il voto non è valido perché infrange la promessa precedente di matrimonio che loro due si erano fatti. Lucia protesta vivacemente ricordando a Renzo le circostanze drammatiche in cui si è trovata costretta a pronunciare il voto. E a questo punto il ragazzo le chiede se i sentimenti nei suoi confronti sono rimasti immutati. E Lucia dice che Renzo non ha cuore perché vuole costringerla a dire parole che la faranno soffrire. Poi Lucia prega a Renzo di andarsene e di informare Agnese che le sta bene, che ha trovato una brava persona che le fa da madre e che presto Lucia e Agnese riusciranno a riabbracciarsi e infine dice a Renzo di mettersi l'animo in pace. Allora Renzo comunica a Lucia che fra Cristoforo si trova a Lazzaretto e che forse è malatto. E aggiunge anche di aver visto Don Rodrigo e di averlo perdonato. E che tornare insieme è proprio l'ideale per la salvezza e il pentimento del loro persecutore. Poi Renzo dice che ha l'intenzione di tornare da Fra Cristoforo e aggiunge che non si metterà mai il cuore in pace poiché dal momento in cui si sono separati Renzo non ha fatto altro che pensare a lei e che tutte le sofferenze che ha vissuto le ha vissute per lei. Ma Lucia imperterrita dice a Renzo di andarsene e di non tornare più. Questo perché per Lucia la presenza di Renzo è fonte di dolore. Renzo allora dice che andrà da Fra Cristoforo e che tornerà. Dopodiché esce dalla cappanna. Lucia cade a terra vicino all'etuccio della malatta e scoppia in un pianto addirotto. La donna la guarda con sorpresa e non capisce la situazione. La donna è una mercantessa di circa 30 anni molto ricca il cui marito e i cui figli sono stati uccisi dalla peste. La mercantessa è giunta all'azzaretto quando ormai Lucia era in via di guarigione. Così Lucia si è presa cura di lei, l'ha assistita e tra le due donne è nata una profonda amicizia, un affetto così profondo che la mercantessa vorrebbe prendere Lucia con sé come sorella oppure come figlia. Lucia è d'accordo ovviamente dopo che avrà sentito il parere di Agnese. Lucia però non ha mai parlato alla mercantessa di Renzo, del matrimonio fallito e della questione del voto. E così in questa occasione le racconta tutto. Nel frattempo Renzo è tornato nel quartiere di Fra Cristoforo. Qui il fratte sta assistendo un malatto e appena terminato Renzo gli dice che Lucia è viva e gli racconta la storia del voto. Fra Cristoforo dice che non può pronunciarsi finché non ha sentito la ragazza. Così dice a padre Vittore di sostituirlo per qualche tempo. Poi entra nella sua capanna e prende la sua sporta e infine controlla lo stato di Don Rodrigo che è ancora incosciente. E per questo motivo Fra Cristoforo dice che occorre ancora pregare per lui. Dopodiché segue Renzo verso la capanna di Lucia. Il tempo è cupo, vi sono lampi frequenti e tuoni rimbombano all'orizzonte. Il cielo dunque minaccia pioggia, tuttavia la calura è soffocante. E Renzo è costretto a rallentare il passo poiché Fra Cristoforo cammina lentamente in quanto è oppresso dalla malattia e dall'affa. Entrati nella capanna di Lucia, Fra Cristoforo e Lucia si scambiano dei saluti affettuosi. Poi si appartano sull'atto della capanna e Lucia racconta la storia del voto a Fra Cristoforo. Fra Cristoforo osserva che il voto contrasta con la promessa di matrimonio fatta precedentemente. Poi chiede a Lucia se si sia consultata sulla questione con qualcun altro. E infine le chiede se ci siano altri ostacoli al matrimonio. Lucia risponde che non si è consultata con nessun altro e che i suoi sentimenti sono immutati. A questo punto Fra Cristoforo spiega a Lucia che in circostanze speciali gli ecclesiastici possono avvalersi dei poteri che solitamente sono riservati alle alte gerarchie e che dunque lui può scioglierla dal voto. Lucia a sentire queste parole è stupita e incredula e soprattutto ha paura di commettere un sacrilegio. E poi accetta con il viso rosso di pudore. Allora Fra Cristoforo invita Renzo ad avvicinarsi e davanti a Lucia e Renzo recita la formula per sciogliere il voto grazie al potere conferitogli dalla chiesa. Dopo aver sciolto il voto Fra Cristoforo rasserena Lucia e poi dice a Renzo che la restituzione di Lucia non è una consolazione materiale bensì l'inizio di una nuova vita che un giorno dovrà finire e pertanto i loro eventuali figli dovranno essere allevati nell'amore e nella carità di Dio. Poi chiede a loro di pregare per lui e per Don Rodrigo e a questo punto apre la sporta e tira fuori una scatola di legno che contiene il pane del perdono e dona questa scatola a Renzo e Lucia dicendo di conservarla e di farla vedere in futuro ai loro figli ed insegnar loro a perdonare le provocazioni che si ricevono gratuitamente in questo mondo. Lucia prende la scatola di legno tra le sue mani come se si trattasse di una reliquia. A questo punto Fra Cristoforo chiede a Lucia che cosa avrà intenzione di fare una volta lasciato il lazzaretto. Lucia risponde che si affiderà alla mercantessa la quale non solo la ricondurrà ad Agnese ma donerà anche a Lucia un corredo per le sue nozze. Dopodiché Fra Cristoforo invita Renzo ad andarsene. Renzo e Lucia così si salutano e prima di separarsi Lucia prega a Renzo di informare al più presto Agnese. Dopodiché Fra Cristoforo e Renzo escono dalla capanna. Ormai è quasi sera e un forte temporale si preannuncia all'orizzonte. Renzo rifiuta l'ospitalità di Fra Cristoforo poiché vuole tornare il prima possibile da Agnese ed avvisarla di quanto accaduto. Fra Cristoforo si congeda da Renzo dicendo che spera che si rivedranno in cielo. Dopo essersi salutati Renzo guarda Fra Cristoforo allontanarsi e quando è scomparso dalla sua vista esce dall'azzaretto. L'azzaretto al cui interno tutti si stanno preparando per ripararsi dalla burrasca imminente. Ti ricordo che per la spiegazione di questo capitolo ho fatto un video specifico. Condividi il video, iscriviti al canale e noi ci vediamo al capitolo 37. In bocca al lupo.